Il Partito Popolare Italiano, di orientamento cattolico, è stato fondato il 18 gennaio 1919 da Don Luigi Sturzo. Vittima illustre dell'avvicinamento tra la Chiesa e il fascismo fu proprio il Partito Popolare, considerato dalle gerarchie ecclesiastiche un ostacolo per il miglioramento dei rapporti con lo Stato. Nell'aprile del 23 Mussolini impose infatti le dimissioni ai ministri popolari e poco dopo Don Luigi Sturzo, sotto le pressioni del Vaticano, lasciò la segreteria del partito. Grazie a tutti.